Tre consigli per essere una buona guida per il tuo cane così che lui possa affidarsi a te, che non hanno niente a che vedere con l'imporsi. 1. Permetti quotidianamente al tuo cane di soddisfare i suoi bisogni. Portalo fuori molto di più anche se arrivi la sera stanco. Tutti i giorni insegnagli qualche piccolo esercizio, qualche gioco insieme a te così che possa usare il cervello. Portalo in natura, nel verde, dagli fiducia e lascialo libero il più possibile. 2. Cerca di mettere il tuo focus su tutto ciò che già di buono ha, sui suoi talenti e per queste cose premialo e lodalo invece di concentrarti sulle cose che non vanno e punirlo per quelle che non vanno. 3. Prenditi tu la responsabilità del tuo cane. Sei tu che, vivendo in città, scegli per lui. Mettiti nei suoi panni e fai delle scelte adeguate per lui. Non metterlo in situazioni di eccessiva difficoltà. Se tu farai queste cose per il tuo cane, vedrai che lui ne farà tantissime altre in cambio per te. E se vuoi sapere nel dettaglio come fare, vai a vedere come sempre nel link che ti ho messo qui sopra. Ciao!